dai giù bene però tu vai lo stesso qua le mani oh che brutta buono tenuta tenuta dammela non ti preoccupare adesso ci mettono il piedino magico bravissimo questo bisogna spingere bene piega e le mani qua bravo mettila in porta bravo se qua ci metti dentro anche un passo in più la puoi anche bloccare ma tanta roba molto bene ecco qui devi mettere un passo va bene va bene va benissimo a posto non sei in centro alza la testolina oh pallina bravo è dura scusa bene ora ho preso solo quattro gol dai dai pensa a parare pensa a parare molto bene bravo lori credo di non avere anche per te però no te lo dico quando abbiamo finito bravo dai bimbi vediamo i fusi mettici un passo mettici un passo non dovete aver fretta dovete iniziare a capire cosa bisogna fare va bene va bene palloni grazie bravo lori grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti